Ragazzi benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui per ufficializzare l'arrivo di Manuello Catelli, nuovo giocatore della Juventus Arrivato con 35 milioni più bonus di riscatto se non mi sbaglio Domani dovrà fare le visite mediche proprio quando uscirà questo video Quindi il video uscirà domani che sarà oggi stesso quindi già voi lo state vedendo 35 milioni, secondo me Manuello Catelli può fare molto per questa squadra Perché il nostro centrocampo non è proprio messo bene Dovrebbe arrivare forse pure Pjanic ma ancora il Barcellona non ha deciso Però Pjanic vorrebbe ritornare alla Juventus Quest'anno Secondo me Manuello Catelli è un buon acquisto dopo quello di Caglio Giorgia Che è un giovane del Santos Che vabbè lo sapete tutti Secondo me questo Manuello Catelli può dare rinforzo al centrocampo Vita al centrocampo Perché questo centrocampo secondo me non è per niente messo bene Con Bentancur Rabiot che forse Rabiot ha fatto meglio Meglio Di Bentancur Ma forse quello che lascerei al centrocampo Dite la vostra sui commenti Secondo me quello che ha dato vita al centrocampo Secondo me è McKennie Secondo me con McKennie Locatelli può fare molte cose Aspettiamo adesso a Pjanic di decidere E del Barcellona di decidere che cosa fare con questo giocatore Arrivato dalla Roma alla Juventus Dalla Juve se ne è andato a Barcellona Speriamo bene Potrebbe anche come si chiama di Pjanic Cioè anzi di Pogba stavo sbagliando Anzi ho sbagliato Di Pogba Speriamo Adesso dobbiamo vedere ma mi sa che rimarrà Perché ha giocato la prima di campionato Non se ne potrebbe andare secondo me E Emanuele Locatelli è un nuovo giocatore alla Juventus Adesso parliamo di un'altra cosa Perché sto video non è solo di Emanuele Locatelli Non l'ho detto nel video del prediction Che uscirà domani che è oggi Cioè oggi domani vabbè Quindi Parliamo del Possibile addio di Cristiano Ronaldo Che io ci godo un sacco Perché Ronaldo mi sta sul cazzo Sinceramente da Juventino Tutti i Juventini mi possono criticare Ma Ronaldo mi sta veramente sul cazzo Secondo me Ronaldo Forse al primo anno ha fatto meglio Ma negli altri tre Secondo me non ho visto quel Quei Ronaldo che era a Real Madrid Infatti si potrebbe dire che Real Madrid è possibile di riprendersi Cristiano Ronaldo Sarebbe veramente un grande ritorno per questo giocatore Anzi per il giocatore che odio Sinceramente E si era pure detto che volesse andare al PSG Però Mbappé Voleva andare a Real Madrid Quindi c'è un immischio tra O Ronaldo se ne va a Real Madrid E Mbappé rimane al PSG O Ronaldo se ne va al PSG E Mbappé se ne va a Real Madrid Perché Mbappé Nelle storie Twitter Come si chiama Aveva detto che Secondo me non voleva giocare con Messi Perché secondo me Con questa squadra così forte Di campioni Hakimi, Messi Donna Rumma Sergio Ramos Ci sono tanti campioni Mbappé vorrebbe lasciare la squadra Perché secondo me Il PSG Secondo lui Il PSG È una squadra troppo forte Adesso parliamo Di un altro acquisto Fatto della Serie A Stiamo parlando Dell'acquisto di Tammy Abram Giocatore Ex Giocatore del Chelsea Approdato alla Roma Ormai è ufficiale Ha giocato pure La prima partita di precampionato L'amichevole Quindi Ora si vede Zeko È un nuovo giocatore All'Inter Adesso vediamo Nei prossimi giorni Come potrebbe Continuare Questo calciomercato Se con nuove Con nuovi acquisti O se no Potrebbe finire il campionato Senza più Potrebbe finire il calciomercato Senza più acquisti Ora vedremo Quindi Lasciate like Iscrizione al canale Perché poi Domani Cioè oggi Farò altri video Per domani Quindi Lasciate like Di nuovo Iscrizione Attivate La campanellina Per non perdere Nessun Nuovo video Da Tamara Roderico È tutto Bella ragazzi Grazie a tutti